Ennesima uscita prestagionale, ennesimo test amichevole per il Città di Teramo, 1913, quest'oggi affronterà l'Angizia Luco. Gara che è iniziata in questo preciso istante. Vada la bandierina, mercato, primo tiro, Emanuele Ferraioli. Sì assolutamente, tanto va Touré, c'è il vantaggio Città di Teramo al minuto 12, ancora Angelucci, interno dell'area, membra Angelucci, Angelucci, va vicino al gol. Intanto Cipolletti, zingarata di Cipolletti, Damiani, Oses, ancora Oses, da lontano. Siamo a Cinquegrana, va il pallone spizzicato. Da Cinquegrana non ci arriva De Carolis. Guardiamo a noi le ferraioli che scivola, scivola a terra. Il 2 a 0 Teramo al minuto, 36. Ora Touré sul filo del cuorigioco, Touré, 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 bella la giocata di Touré, il 3 a 0. Ancora Emanuele Ferraioli, di precisione ancora una volta. Sibila il palo al minuto 42. Ma Scipioni, bella la serpentina di Scipioni, per Mercado, che mette dentro un bel pallone. Non ci arriva nessuno, non c'era il Neoses, né Touré. Ora si stanno a scaldare, vediamo la nostra postazione. Sicuramente 1-2 Santos, intanto ancora Teramo. Bella la giocata di Massarotti. Lui può giocare benissimo anche a destino. Gardini, recupera un buon pallone. Gardini, Gardini, Gardini. Niccolò Gardini. Bello il gol di Niccolò. Gardini al minuto 12. Quinto gol per il Teramo. Ancora Gardini, scalda i guanti a Fanti al minuto 22. Intanto si conclude il match. Vince il città di Teramo. 1913. 5-0 contro L'Angizia. Loco.